E' stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la relazione sull'attività per il 2020 e il 2021 dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. Approvata all'unanimità la modifica allo Statuto della Toscana, che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale. Rilanciare e implementare la partecipazione perché strumento alla co-definizione delle politiche pubbliche è uno tra i punti contenuti nella proposta di risoluzione approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale collegata alla relazione sull'attività 2020-2021 dell'Autorità regionale che per legge garante della partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali, aspetto dell'ordinamento sancito dallo Statuto Toscano. Il testo della proposta è stato illustrato in aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. L'Autorità per la partecipazione ha reso la propria relazione, il proprio rapporto da prima alla prima Commissione e poi attraverso una proposta di risoluzione all'Aula del Consiglio regionale. Si tratta di un report dell'attività svolta negli anni 2020-2021 da parte di questa Autorità per la partecipazione che si è insediata nel maggio del 2020, un'occasione per acquisire una serie di dati importanti. Ad esempio nel 2021 sono stati finanziati percorsi partecipativi e dibattiti pubblici per oltre 350 mila euro sono stati realizzati ben 23 percorsi partecipativi, l'80% dei quali sono stati promossi da enti locali e l'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'Autorità per la partecipazione ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti. Ovviamente cercando di incentivare i percorsi partecipativi anche nei piccoli comuni attraverso lo strumento della formazione che diventa indispensabile per rendere efficaci questi percorsi e per garantire un reale coinvolgimento delle comunità. Sicuramente occorre fare molto per modificare la normativa, per armonizzare la legge regionale di riferimento con le altre leggi che prevedono la partecipazione potrei ricordare la pianificazione urbanistica, la gestione dei beni comuni occorre investire, dare risorse per quanto riguarda la partecipazione nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione ma occorre dargli risorse occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda le figure di tutela gli organismi in genere perché la regione toscana chiede di modificare le normative di riferimento che in gran parte non sono più attuali L'autorità per la partecipazione è fondamentale per la regione toscana è fondamentale per mantenere il dialogo con la cittadinanza e con gli enti locali ma finora se ha funzionato meno di quello che è stato necessario è stato per due ragioni principali è stata molto poco finanziata, anzi nel corso del tempo definanziata i processi partecipativi invece necessitano comunque di un contributo da parte della regione per poter essere implementati e soprattutto il fatto che molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non verrebbe avere partecipazione il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati come dovevano essere quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente ovviamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto sull'autorità della partecipazione occorre anche qui capire che tipo di percorso vogliamo fare perché se da un lato la partecipazione ha portato nell'ambito di alcuni progetti locali dei risultati anche molto interessanti dall'altro però dobbiamo anche vedere la partecipazione come uno strumento ed è la stessa legge che lo prevede da sfruttare nel momento in cui come accade molto spesso si debba evitare magari di adire dei contenziosi e quindi di favorire una partecipazione a monte rispetto a quelle che possono essere delle grandi opere questa è la distinzione che viene fuori anche dalla norma troppo poche sono state le partecipazioni del secondo tipo cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere che invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera la norma parla chiaro perché ci sono alcune opere importanti fondamentali sul quale vi è un obbligo di attivare il processo partecipativo ciò che è strano è che oggi su quella parte della norma invece ci si sia attivati così poco quindi è evidente che poi anche da parte dei cittadini c'è una tendenza a richiedere questo tipo di supporto ecco su questa fase io credo si debba intervenire maggiormente per cui come dire è un intervento normativo che dovrà mirare senza dubbio a rafforzare questa autorità dandogli però una efficacia effettiva l'aula del consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica allo statuto della regione toscana che fa dell'antifascismo un principio ispiratore fondante dell'ordinamento regionale in opposizione a ogni sistema politico e di principi dittatoriale autoritario che riproponga metodi propri del fascismo alla fine del comma 1 dell'articolo 3 dello statuto sono aggiunte le parole promuove, difende, pratica la memoria della resistenza e l'antifascismo quale principio costitutivo del proprio ordinamento la Toscana è antifascista da sempre dalla lotta della resistenza oggi lo è ancora di più perché finalmente lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso alato, era il segno distintivo del comitato di liberazione nazionale e oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello statuto sia un fatto simbolico e forte un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare Con la seconda votazione resa secondo il dettato della nostra carta costituzionale il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante e principio ispiratore del nostro sistema istituzionale ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno una conquista importante condivisa da tutta l'aula del Consiglio regionale che inserisce nel nostro statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà soddisfazione perché a livello unanime tutto il Consiglio regionale ha votato una norma che non è soltanto un elemento identitario è un principio di carattere culturale ovviamente 50 anni ci sono voluti per portare questo principio e però la soddisfazione che in questo momento tutta l'aula si è riconosciuta su un valore un valore che denota le nostre origini il Pegaso e denota il fatto che dentro una cornice unitaria tutti i partiti poi possano muoversi dentro i principi di democrazia e soprattutto nel rispetto reciproco gli uno degli altri questa credo che sia una notizia importante Toscana riconosce il valore fondante dell'antifascismo per quanto riguarda il proprio ordinamento sicuramente una notizia da sottolineare perché è patrimonio culturale di tutti l'antifascismo io rivendico l'antifascismo degli autonomisti posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale lo statuto, il regolamento e direi anche la legge elettorale quindi dobbiamo riflettere sul fatto che mentre la costituzione repubblicana prevede 12 principi generali invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4 le finalità della regione toscana si arriva fino a lettera Z bene, ci siamo mossi bene dovevamo probabilmente farlo prima ma al tempo stesso invoco una razionalizzazione di tutti questi principi che sono espressi nelle finalità della regione toscana apriamo una pagina costituenda che si basi proprio sull'antifascismo noi siamo pronti abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni considerandola un'occasione perduta per regione toscana e per tutti i toscani perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente interpretare i nostri tempi superando, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo quello dell'antitotalitarismo che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità dove esistono tuttora stati dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo il partito unico, la mancanza di libere elezioni sistemi di polizia che reprimono i dissensi che comprimono i diritti che sono sostanzialmente non soltanto attuali e sono in vigore ma non si richiamano chiaramente stati che si dichiarano fascisti ma si dichiarano in tutt'altro modo talvolta sono nazione a regime unico di stampo comunista altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono esattamente i regimi compiutamente democratici ecco noi volevamo che ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta statutaria di Regione Toscana e a 100 anni dalla marcia sul Roma e quasi 80 anni dal 25 aprile 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo è un'occasione parziale non raccolta compiutamente da parte nostra ma abbiamo votato convintamente chiaramente il nostro voto è stato convintamente favorevole perché al netto di quelle che sono le grandi emergenze che i toscani stanno vivendo in questo momento non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettere a viva i nostri valori questo deve essere fatto tramite le iniziative ma anche tramite una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti però un appello mi sento di farlo molto spesso il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente è necessario che principi, valori come l'antifascismo la condanna dei totalitarismi e tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera a politica a confessionale e soprattutto non diventi un oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione devono essere valori di tutti noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone credo che su certi valori comunque sia indiscutibili e fondanti sia della nostra carta statutaria sia soprattutto della nostra Costituzione non ci si debba dividere anzi credo che oggi questo tipo di dibattiti una volta archiviata la modifica dello statuto debba sì da un lato denotare unità di intenti e come dire una condivisione di quelle che sono le regole democratici che ormai fanno parte del nostro vivere civile ma non dobbiamo però dimenticarci che molto spesso questi dibattiti si sono rivelati come dire quasi snobbati dai cittadini rispetto a quelle che sono delle emergenze reali l'emergenza economica il caro bollette ecco noi non dobbiamo però dimenticarci che al di là di quelle che sono enunciazioni di principio oggi occorre dare attuazione a quelle che sono le nostre finalità ed oggi sono richieste delle risposte io credo che ci debba essere necessariamente un cambio di passo da parte della giunta regionale perché ripeto un conto è il contesto valoriale su cui ci dobbiamo muovere le finalità sulle quali nessuno discute l'altro invece è darvi attuazione ed oggi io credo che il privatismo e la concretezza debbano caratterizzare maggiormente l'azione della regione non è mai un dibattito sterile quando si parla di diritti fondamentali però occorre anche capire che oggi e le urne lo hanno dimostrato una settimana fa magari anche portare avanti dibattiti che possono rischiare di sembrare strumentali oppure da agitarsi magari con l'avversario politico di turno oggi interessano meno alle persone oggi interessa capire come uscire da una crisi economica e da una crisi occupazionale che stanno veramente gravando e mettendo a dura prova il nostro sistema economico sociale questo è ciò che conta quindi come dire uniamoci bene sui valori ma poi anche capiamo bene che oggi dobbiamo agire anche su altri fronti